Al termine del posticipo della sesta giornata di Coppa Italia del campionato di occhi su pista di serie A2 tra Pumas, Viareggia e Rotellistica Camaiore, il risultato è di 1-1. I giovani rossoverdi fermano la capolista che mantiene tre punti di vantaggio. Passano 89 secondi ed è Matteo Pardini che porta avanti gli ospiti. Al nono minuto Giuseppe Olivieri fallisce un tiro diretto del possibile pari per la compagina allenata da Mirko Bertolucci. Il risultato rimane invariato fino ad inizio della ripresa quando 12 secondi Oscar Mora pareggia su rigore. L'1-1 non cambia anche se a 29 secondi dalla conclusione della partita la Rotellistica Camaiore del coach Alberto Orlandi avrebbe avuto il tiro diretto della possibile vittoria che però Davide Motarano nonostante la sua esperienza non è riuscito a realizzare. Finisce così 1-1 questo derby cittadino.